sto cucinando ti ho fatto cambiare la vita da così a così da così a così no io a te come no, certo che stai cucinando? cucinare la foto mia no, manco molta quale persone vorrebbero la foto mia, è vero? sì, certo e tu niente no che fai? che stai facendo, il ragù? lo vuoi? è un cacco un cacco di stagione è vero di vitamine un cacco proteine guarda, minerali sono tutti cachi di stagione cereali come cereali? cereali abcd e fd ce l'hanno drogato a questo guarda, guarda guarda, due cachi al prezzo di uno ma te droghi? ha 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 ha